Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a LumaFusion, la nostra applicazione che la fa da padrone sui nostri sistemi iOS di montaggio video, per il montaggio video. Parlo sempre male, però voi mi scuserete. Oggi andiamo a vedere l'altra parte, l'altra novità che potrebbe essere interessante per tanti di voi se ovviamente vorranno usufruire di questo servizio. Sto parlando di Frame.io. Cos'è innanzitutto questo servizio? È un servizio, ovviamente, non ridete a pagamento, perché ovviamente nessuno fa niente per niente, però a quanto ho capito, adesso per andermi a vedere, abbiamo un mese gratis di attivazione, poi sono soldini, soldini mensili, quindi se vi serve lo attivate, se non vi serve, lo utilizzate un mesetto così tanto per giocarci un po', e poi potete lasciarlo andare. Quanto ho capito io, poi andiamo a vederci insieme e lo spulceremo per bene. Questo servizio è un cloud, ok, messo a disposizione per l'UmaFusion. Cos'è un cloud? Dove è un posto fisico, ovviamente fisico, virtuale, dove voi potete andare a, diciamo, memorizzare i vostri file media. Ma una domanda solge spontanea. Cosa me ne frega di andarmene a mettere i file media su un cloud, se ho già Google Drive, ho già l'altro servizio di Microsoft, ho già i cloud, Dropbox, compagnia bella? È molto più esteso, è praticamente un servizio fatto opposta per video, per montaggio video. Praticamente vi spiego meglio in due parole, poi lo vedremo. Voi potete memorizzare questi media, oppure progetti interi, per condividerli con il vostro staff, il vostro gruppo di lavoro. E poi andremo a vedere, molto interessante, perché potrete mettere delle note in certi punti del video, qua non mi piace, qua metti un altro, che ne so, un altro clip. Beh, molto carino, ovviamente per lavorare in gruppo. Ma chi lavora solo come me? Non ha senso, ovviamente. Però andiamo a vedere un pochino così, a grandi linee, non so, fermiamoci, perché tanto so già che non so chi lo utilizzerà. Poi se lo utilizzerete e vorrete avere specifiche più approfondite, potremo farlo. Innanzitutto andiamo a vedere una bella panoramica e cosa dobbiamo fare per poterlo avere. Ma questo dopo la nostra meravigliosa e stupenda sigla. In questa parte andremo a vedere cosa serve per il gruppo, per persone strane all'UmaFusion, questo frame.io. Infatti, adesso mi trasferirò sul Mac o sul PC quello che volete. Ovviamente dovete creare un account, tutto il resto, compagnia bella abbiamo già detto. E adesso andiamo a vedere come io posso entrare, sui miei file memorizzati, sul mio Mac, senza passare all'UmaFusion. Trasferiamoci sul Mac, andiamo a condividere la schermata. Vedete, ho messo, sentite sto rumore e il monitor che me la vicino. Mi tolgo gli occhiali perché non ci vedo una pizza. Avete visto, io ho messo, aspettate che passa la motoretta, avete visto che io ho messo praticamente la mia email e mia password. Entro, vedete, io adesso non sto a farvi vedere tutte le funzioni perché staremo qua fino a Babbo Natale quando arriva. Quindi vi faccio vedere le cose principali che a me... Ecco, innanzitutto, vedete, già vi trovate davanti alla vostra schermata con tutto quello che io ho memorizzato. Ecco, c'erano già presenti dei file demo, infatti questa cartella, vedete, si chiama Demo Project. Quindi, questi file sono stati già memorizzati da, diciamo, questi di Frame.org che hanno fatto questa, ovviamente, questa demo. Io ho memorizzato questo e poi ci ho chiacciato, ci ho chiacciato questo qua, il progetto test. Perché? Vediamo un po' i progetti qua dentro cosa c'è. perché volevo andare a vedere se è possibile importarli poi, ovviamente, su un altro iPad o sull'UmaFusion. Non va dentro. Ecco, va dentro. Ecco, vedete, questo è un progetto. Ecco, questo qua è un progetto. Ok, io lo posso cancellare. Una cosa che va detta, adesso mi... Scusate, mi dispiace non farmi vedere, anche se non sono proprio, diciamo, un adone, però mi dispiace. Eccomi qua. Io mi girerò di là del monitor, però voi, ovviamente, vedete il mio profilo migliore. Non so se ci sono dentro inquadrato. Abbastanza, vabbè, non me ne vogliate. Almeno vedete qualcosa, perché mi dispiace non farmi vedere. Quindi, ricapitolando, qui vedete, avete le vostre cartelle, ok? Posso creare, ovviamente, una cartella nuova con più e me la ritroverò all'interno di UmaFusion. Adesso andiamo a fare tutte le prove del caso. Una cosa interessante è questa, ovviamente, la possibilità di condividere e invitare persone. Io ho questi due tizi che non conosco, però sono all'interno del, diciamo, del progetto, ma sono fittizi, penso, io sono questo pur avendo messo nel mio profilo di frame o io ho messo anche la foto, però non me l'ha presa. Non so perché non me l'ha presa. Comunque non è un problema questo. Poi potete invitare persone, fare cose, diciamo, per, ovviamente, allargare il vostro gruppo di lavoro, ok? Ma non so, fermiamoci che tanto, non so neanche se lo useremo questa funzione qua, perché poi, ovviamente, dovete avere una linea della miseria per scaricare. Infatti, io mi sono andato, adesso sono tornato un attimo dalle mie piccolissime vacanze in studio perché con la fibra, se no, con il cellulare, con la linea cellulare, potevo morire prima di fare una dimostrazione del genere, giustamente, perché ci vuole una gran linea, questo ovviamente va usato in uno studio, cioè voi siete in uno studio e scambiate file con altre persone, che sono un altro studio, se no vi potete sparare in due piedi perché non riuscirete a, cioè potete anche riuscire, ma consumate una linea, diciamo, un sacco di dati incredibili. C'è la batteria scarica di questo cellulare? No, sta andando avanti da registrazione del microfono, scusate. Allora, a questo punto, io cosa faccio? Per tornare indietro, è come usare un, diciamo, un computer, un cartello di computer. Io vado qua e posso creare un'altra cartella, ok? Mi viene chiesto il nome, ovviamente, facciamo test mio, oppure mio test, che è meglio, twist, scusate, c'è un sudore. Vedete, qua potete decidere chi vede il vostro progetto, tutti, ok? Tutti quanti, oppure quelli che penso, perché è la prima volta che lo vedo, quelli che invitate, se è possibile, diciamo, condividere, compagnia bella, e can download file, ecco, questo potete pluggarlo, se non volete, faccio, che la gente, cioè, i vostri collaboratori, scarichino i vostri file. Andiamo qua, creiamo la nostra cartella, vedete che si è, ovviamente, aggiunta qui, ok? E non c'è una vera detta ceppa dentro, quindi, io cosa faccio adesso? Vado qua, sul mio hard disk, vedete, upload file, vado qua, cerco qualcosa di decente, in questo, in questo computer qua, di decente, non voglio spaventarvi, perché, allora, andiamo un po' a prendere questo, questo qua è, vediamo un po' la bellezza di, 6 mega, ah, perché l'avevo ridotto per Whatsapp, giustamente, per mandarlo a degli amici, dunque, andiamo un po' a vedere se ho dei video da poter condividere, Gennaro, non hai neanche un video da poter condividere e fare il filmmaker, mmm, allora, 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 questo qua cos'è? Se no, è una cosa tremenda, non si vede neanche, allora, andiamo un po' a vedere qui, cos'è questo? questa è una mia sigla, mi sembra, eh, sì, troppo piccolo, lo cerco, eh, lo cerco e lo metto, ecco, sarà contenta una mia collaboratrice che mette un suo video, saluto Laura, ciao Laura, sto, vedete, sto facendo praticamente il, il upload di questo video, ovviamente, avendo la linea fibra, ci mette abbastanza poco, per poi andare a vedere se effettivamente io lo utilizzo sul mio iPad, ok? qui si tratta di poter usufruire di spazio, i cloud, diciamo cloud, senza dover avere chiavette, però, adesso andiamo a vedere, andiamo un attimo a vedere, l'ha già messo, andiamo un attimo a vedere nel mio profilo che vi dicevo, il mio profilo, scusate, è questo qua, allora, Gennaro, is out, allora, andiamo un po' a vedere, andiamo un po' a vedere il mio account storage, ok? Quello che volevo far vedere prima, allora, no, sì, ok? Vi voglio far vedere una cosa, allora, allora, vedete cosa dice qua, ok? 250 giga, ok, di, Gb, off, off activate a storage, ok? E, off activate, che posso attivare, storage, allora, andiamo a vedere, di qua, cosa mi dice? mi dice che, mi dice che, dice che era un buon uomo, veniva da, non mi dice più niente, allora, dove l'ho letto, ragazzi, dove l'ho letto, allora, dove l'ho letto, che me lo regalavano, allora, aspettate che lo ciorco, lo ve lo doco, eh, ADD Department, ma non lo trovo, non, vedete che gira la rotella, e non mi, dà la possibilità, di vedere, eh, quanto, ho, quanto ho di spazio, mi diceva che scadeva, il, eh, il 31 luglio, mi sembra, che scadeva, un mese, cioè, fino al 31 luglio, adesso non so perché, mi gira la rotella, e, mi gira la rotella, mi gira anche altre cose, e, eh, presente mi diceva, sono sicuro perché è impossibile che ci regalino, ragazzi, io non so, è impossibile che ci regalino, tre, 250 giga, di spazio, cioè, cioè, l'Uma Touch ci regala a noi, 250 giga, sarebbe una cosa bellissima, infatti qua bisogna aggiungere, una forma di pagamento, che io non ho messo, vabbè, quindi, non si va a, vedete che non, non si va, praticamente, ad aggiornare, il, il mio dato qua, vediamo se ci può essere qualcosa, qua sotto, di utile, allora, scusatemi tanto, se faccio sti giochi di zoom, niente, non mi ci vedo nulla, allora, vediamo un attimo qua, allora, profilo, vediamo un pochino, su profilo, il profilo, infatti, vedete, non, genera dei filippis, va bene così, ta 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 ta, notification, non l'avevo visto, cos'è, non lo so, ah, vimeo, vabbè, lasciamo un attimo, il mondo com'è, sì, lasciamo un attimo, il mondo com'è, e andiamo a vedere, vedete, user e team, qui, vi potete anche gestire, tutto il vostro team, che serve apposta per quello, poi, perché siete da soli, e da furbi, avere praticamente, come dire, ecco, io ho messo il mio logo, vedete qua che l'ho messo il mio logo, però non me lo prende, è furbo avere, solo voi, praticamente, vi pagate, non so, 49 dollari al mese, mi sembra di aver visto, e praticamente, vi scambiate il file sul cloud, mi sembra, una follia, una follia, dunque, vediamo un pochino, se mi non ridà, addi di members, vediamo un po' cosa è qua, allora, qua, mi dà di aggiungere members, sono io, ovviamente, io non so se ci state capendo qualcosa, spero di sì, ma la cosa carina, che vi volevo far vedere, è questa, ma non mi si attiva, perché lo sanno, sto vedendo, mi dicono, questo sta facendo vedere, ma poi è giusto anche, che sia, per carità, a pagamento, io non lo discuto, sicuramente, cioè, ci mancherebbe, sicuramente, non so adesso, dove andarmelo a prendere, profilo, connection app, connection app, collegamento di app, cos'è? Ah, LumaFusion, guardate, quindi vuol dire, che potete collegare, anche, magari non vi vedete più, adesso sono uscito dal cosa, e non riesco più andare dentro, a dove io, vediamo un po', dove avevo, perché non l'ho utilizzato tanto, vi dico la verità, e non so dove, non c'è il collaboration, e non so dove andare, comunque, a parte questa mia, cosa di voler trovare a tutti i costi, di farvi vedere, account user group, branding, branding sono io, questo qua, chi è? Questo Billy, eccolo qua, ho trovato, vedete che non si va a aggiornare, però, dice che scade, il 31, luglio 2020, quindi, scadrà sicuramente, la cosa di, dovrò pagare, e io non lo pagherò, perché 49 dollari, mi sembra di aver letto, non li pagherò, comunque, torniamo a frame I.O., I.O., sembra un asinello, cliccando, qua so, qua sopra, si torna, come cavolo, si fa tornare indietro, qua, scemo, così, e quindi, andiamo a vedere, adesso, il Lumia Fusion, cosa ci serve, cosa ci può servire, vedete che è già lento, così, con la linea normale, figuratevi con una, con una linea di cellulare, vedete che ha messo, effettivamente, ha messo il mio file, andiamo su Lumia Fusion, e vediamo, cosa possiamo farci, bene, eccoci sul nostro, iPad Pro, adesso, io non lo so, se riuscirò ad acquistare, il Pro, 11, o 12, ho fatto un po' di casini, Amazon, ha mandato cose che non erano, vabbè, comunque, sì, è umano sbagliare, adesso vedremo, se possiamo poi montare video, sull'iPad Pro, di ultima generazione, o di precedente, questo, non importa, tanto sono quasi uguali, a me poi la fotocamera, non interessa, questo è un altro discorso, andiamo fuori discorso, allora, per poter, azionare, per poter, importare, da Frame, e ho bisogno di vederlo all'interno, dell'interno della mia libreria, vedete, cliccando sulla libreria, non esiste questa voce, bisogna andare qui, e andarla a inserire, lo sapete, no, potete inserire, tutto quello che riguarda, la vostra libreria, oppure, togliere quello che non vi serve, io prendo questo bel Frame, o, e l'ho sposto, proprio qua, clicco, sulla freccetta, o fuori, per uscire, dalla mia, opzione, vado su Frame, o, io ovviamente sono già logato, vedete, vado dentro, la mia cartella, il mio nome, diciamo, il mio nome, perché poi, penso che ci sia un altro, adesso io non so, avendo collaboratori, purtroppo, non so, se esiste, ci entra un altro nome, comunque, a parte questo, vedete che ho, queste due cartelle, adesso andiamo a fare, un progetto nuovo, per vedere, effettivamente, se posso importare, il, la clip appena, esportata dal mio Mac, una, doppio clic su quella cartella, che io ho, praticamente, nominato, vado sulla mia clip, vado a vedere, l'anteprima, ok, due, due tap, come al solito, su, che si fa per importazione, e si importa, voilà, la mia clip, dalla, praticamente, dal, eh, il mio frame, io, che è un cloud, praticamente, ok, e ho importato, la mia clip, posso, ovviamente, esportare, le clip, vedete, adesso, facciamo l'importazione, adesso, eh, sì, questa no, però, perché non ha senso, vediamo un po', qualcosa, di meno, eh, diciamo che non è, facciamo questo, perché è troppo, è troppo pesante, non vorrei, eh, diciamo che il video durasse una settimana, andiamo in esportazione, e anche qui, andiamo su foto, e anche qui, vedete che non c'è, anzi, c'è, l'ho messo già, però, lo, eh, trovate qui, ok, sempre, se io adesso, andassi a spostare, a prendere, e mettere da questa parte, qui, nel, le mie esportazioni, non ce l'ho più, vado praticamente, di nuovo, in questa voce, lo prendo, e lo metto in cima, adesso, per praticità, poi, appena mi scatta il pagamento, lo, andrò a cancellare, andiamo qui, andiamo su frame, io, sembra un asinello, andiamo a scegliere, come esportassi, su un qualsiasi, su qualsiasi device, la mia, eh, come dire, il mio, il mio, la risoluzione, tutto a compagnia bella, vado sull'esportazione, vado all'interno, di dove voglio andare, a mettere, la mia, praticamente, la mia, come dire, il mio file, mi vengono le parole, vado dentro test, ok, e ce lo fico qua, lo chiamo il mio progetto, e va bene così, e adesso, vedrete che, fra un po', apparirà, all'interno della cartella, dove abbiamo, praticamente, importato il file, che è la stessa, il mio file completo, mentre, diciamo che abbiamo fatto l'elaborazione, ci avevamo messo transizioni, titoli, e la stiamo esportando, no, un certo filmato così, come l'ho importato, questo, ovviamente, per praticità, e, vediamo un pochino, è esportato correttamente, ed eccolo qui, ok, il mio test, io, ovviamente, non c'è, ah no, vabbè, dovrà arrivare, giustamente, ci metterà un pochino, spero, spero ci metterà un pochino, ho visto che sul Mac, è già arrivato, dovrà arrivare anche qui, perché sul Mac, c'è già, diciamo, l'anteprima, che sarebbe poi la stessa, che vediamo, sull'altro, e questo, dunque, ah, ok, ok, aspettate un attimo, che andiamo a togliere tutto, andiamo a levarlo, scusa, forse è meglio così, se, non lo vedo, ma se lo carico, lo carica, ok, non vedo l'anteprima, vabbè, comunque l'ha esportato, vedete, ho esportato il mio, praticamente, progetto, diciamo, il video finale, su Frame.io, e questo può essere, ovviamente messo a disposizione, di tutto il vostro team, una cosa interessante, che vi voglio fare, questa, questa mi è piaciuta, se vado, nella cartella, praticamente, di dimostrazione, diciamo, della, della Frame.io, che adesso non trovo più, perché sono scederato, qua, Gennaro Team, qua, se vado, se vi faccio vedere, vedete, questo filmato, che è stato messo lì, appaiono tutti questi puntini qua, non sono altro che, tutti i commenti, che sono stati messi, vedete, se io clicco, dai vari collaboratori, ok, io posso posizionarmi, in un punto, del, mio filmato, cliccare su quest'iconetta, che, ovviamente, distingue fra i mod, cliccare sopra, e, inserire qua, che, bello, tipo, e vado, ovviamente, a, salvare, il tutto, però, la cosa, non è, solo questa, io posso andare, su un commento, di un altro, ok, e aggiungere, ovviamente, un commento, se clicco, scusate, ho cliccato qua, se vado su un commento, di un altro, dicevo, dove cavolo è, qua, facendo qui, vedete, posso aggiungere, il mio commento, qua sotto, a lui, dicendo, oh, bravo, che bella, cosa ti piacciono, è piaciuto, oppure, non mi piace, assolutamente, per cancellare, ovviamente, il solito, cestinetto, la cosa, che non ho capito, ragazzi, aiutatemi, in questo, per piacere, se io vado indietro, ok, vado in importazione, dei miei, dei miei progetti, vado, ovviamente, qua, anche qui, a mettere, come, diciamo, come device, il mio frame, io, sempre il nostro asinello, vado su, frame, io, vado all'interno, della cartella, sempre della mia cartella, qua, dentro progetti, ok, vedete che qua, io non posso caricare, almeno, io non, non posso caricare, il progetto, che praticamente, è stato salvato, da, diciamo, i signori, di frame, io, oppure, quello che ho salvato io, che è, dai, devi cliccare qua, eh, ragazzi, non ce la faccio, cosa volete fare, oh, ma non vai indietro, sto pazzo, ah, scusate, eh, quello che io, praticamente, ho, mh, salvato, che sarebbe, allora, un attimino, che ve lo dico, eccolo qua, vedete, progetto, ok, questo qua, io non lo posso importare, perché non posso importare, i progetti di Uma Fusion, sul mio, iPad, questo è un mistero, che forse sarò io, che non so, in grado di usarlo, però, mi sembra strano, che non ci sia, una funzione, che mi permetta, di importare, i miei file, comunque, a grandi linee, abbiamo visto, cosa può essere utile, questo cloud, gran finale, ragazzi, gran finale, allora, allora, innanzitutto, vi faccio vedere questo, vedete, abbiamo, ora, sul mio, frame, io, ovviamente, anche l'altro, ok, file che è stato, esportato dal mio, Uma Fusion, quindi, ce lo troviamo qui, volevo dirvi qualcos'altro, vi ho detto tutto, mi sembra, sì, poi, ovviamente, dovremo, se vogliamo, andare avanti, potremo approfondire, questo argomento, però, come, come, ripeto, deve essere, un utilizzo, in team, perché, giustamente, io mi passo i file, con la mia, fadidica, pennetta, finora, poverina, andrà, forse in pensione no, con lightning, oppure, se avete già la fortuna di avere, io forse ce l'avrò la prossima volta, vediamo un po', l'iPad Pro nuovo, con, ovviamente, USB-C, avete, ovviamente, tutto il mondo degli accessori, USB-C, che, ovviamente, il cloud, come dire, si fa un po' a farsi ferigere, perché, se non avete, giustamente, da condividere, con persone, esterne, della vostra, del vostro lavoro, non ha senso utilizzare un servizio del genere, anche perché ha un costo abbastanza elevato, e qui non me lo dice, perché hanno vergogna, non scherzo, però, non so perché non me lo diccia, perché, sono sicuro di aver visto, che fino al 31 era gratis, e poi dal 31 pagavo 49 dollari al mese, che, per 255, 150 giga, mi sembra un po' tanti, visto che, cloud della Apple, da 2 tera, rotti, 2 tera, qua, 9 euro, una cosa del genere, quindi, mi sembra, magari più veloce, ovviamente, più ottimizzato, potete utilizzarlo con le applicazioni, di film make, per carità, è un'altra cosa, sicuramente, però, come dicevo, all'inizio, dovete usarlo in team. Bene, amici, se vi è piaciuto questo video, ve ne porterò degli altri, ovviamente, dal prossimo video, riprenderemo il discorso di My Fusion, un po' andremo un po' in vacanza, perché le idee, ovviamente, devono formarsi, e io vi ringrazio per aver seguito questo video, ringrazio i commenti, ringrazio Whatsapp, che mi arrivano tanti messaggi, dove io, se posso, rispondo, se nelle mie competenze, ovviamente, scusatemi se certe volte, non vi risolvo il caso, perché giustamente, non ci arrivo, ragazzi, non ci arrivo, quindi, vi ringrazio, vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro. Grazie.